Oggi il Presidente ha firmato un'ordinanza molto importante che riguarda il progressivo potenziamento di una serie di attività del Servizio Sanitario regionale. In particolar modo vi sono alcune scelte strategiche che abbiamo compiuta. La prima è il raddoppio dei posti let e della capacità ricettiva dell'Istituto Lazzaro Spallanzani. Un'altra scelta strategica cioè che accanto a Covid-1 ospita che è lo Spallanzani nasce il Covid-2 ospita che sarà la struttura del Columbus presso la Fondazione X Polichinico Gemelli che io ringrazio, che abbiamo chiesto di mettersi a disposizione e ciò è stato fatto. Questo consentirà rapidamente, qui è presente il Direttore Generale Dottor Marco Elefanti, è presente il Professor Rocco Bellantone, il Presidente della Fondazione Gemelli che ringrazio, e questo ci consentirà assieme al lavoro dello Spallanzani di passare da 518 posti attuali di terapia intensiva a complessivamente 675 con 157 posti dedicati alle malattie infettive e dedicati all'emergenza Covid.